Buon salve, bentornati su No Mamamazzo. Questo mese si torna a parlare di Samuel Stern con il numero 9 dal titolo Il Mistico. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube e anche a tutti gli altri miei social per rimanere aggiornati su tutti i video che proporrò. Vi ricordo di attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati mano a mano che usciranno i video, di condividere il video con tutte le persone che si sentono un po' mistiche e di commentare qui sotto con quello che ne pensate di questo numero di Samuel Stern. Approfitto anche per dirvi che presto aprirò una nuova rubrica, una nuova playlist dedicata a Buffy l'ammazza vampiri, finalmente! E sì, perché Josh Whedon ha pensato bene di fare un reboot a fumetti, quindi scrivetemi nei commenti per farmi sapere se siete interessati, se non ve ne frega niente. Magari il primo numero io lo faccio lo stesso, però quantomeno so se continuare o meno a farlo. Non vi preoccupate che parlerò anche di tutto ciò che c'è stato prima di questo reboot di Buffy. Cominciamo! Samuel Stern numero 9. Devo dire che questo numero lo attendevo con ansia per qualche ragione, non so perché, il titolo mi aveva ispirato, il mistico. Sapevo già che c'era puzza di marcio, che c'era qualcuno che si proclamava qualcosa che non era fondamentalmente, perché diciamolo, nel 2020 chi si proclama mistico viene deriso dalle persone scettiche, come può essere anche Samuel Stern, nonostante quello che abbia visto finora, ma purtroppo viene anche seguito da molti creduloni, spesso molti creduloni che attingono alla fede, alla fede religiosa. Solitamente le persone che seguono questi sedicenti santoni sono persone credenti, purtroppo però sono persone credenti un po' analfabete, nel senso che comunque hanno un'infarinatura molto basica della religione che essi stesso seguono e sono tranquillamente pronti a farsi infinocchiare dal primo venuto, perché magari sono delusi dall'istituzione chiesa. Io, chiaramente, si parla di quello che c'è in Italia principalmente, quindi si parla della chiesa cattolica, in cui si parla dell'Arcidiocesi di Edimburgo, si parla di fede cattolica. Queste persone spesso e volentieri si fanno abbindolare da questi santoni che, a volte, in buona fede, credendo di essere davvero dei santoni, abbindolano la gente perché ci credono talmente tanto che riescono a convincere anche persone più ingenue di loro, tante volte, spesso, in mala fede, queste persone assaporano il potere che può dare una certa carica istituzionale e ne approfittano, ne approfittano nel modo più veniale possibile, quindi chiedendo soldi, o peggio, costringendo anche le persone a essere parte proprio di una vera e propria setta. Infatti ho qua sotto in descrizione, dove vi metto sempre, tra l'altro, i link per acquistare prodotti di Amazon che vi suggerisco, quindi se voi li acquistate non pagate un sovrapprezzo, ma a me viene una percentuale, quindi state tranquilli. In questo video ci ho tenuto particolarmente a mettervi dei libri di persone che sono uscite da sette religiose o simil-religiose. C'è quello famoso della Unziker, poi si parla anche della setta, quella macrobiotica di cui hanno parlato tutti i giornali, di come questi, appunto, santoni, questi mistici, chiamiamoli così, con la scusa di fare un'associazione di persone adulte che si riuniscono in preghiera piuttosto che abbindolano le persone semplici. Mi piace molto che in questo numero si parli di un argomento così scottante. Devo dire che se Samuel Stern, all'alba di questo numero, avesse le vendite degli anni 90 di Dylan Dogg, molto probabilmente qualcuno si sarebbe indignato, qualcuno religioso si sarebbe indignato perché ci sono molti fedeli che si riuniscono per pregare a questo santone, quindi sicuramente avrebbe fatto scalpore. Ma Samuel Stern è ancora nuovo, è ancora piccolino, è ancora agli albori, quindi non sta suscitando le ire di troppi bigotti benpensanti. E poi, ripeto, siamo nel 2020, quindi probabilmente andranno a lamentarsi direttamente sui social. Chiaramente per ora ho parlato, ho dato un'infarinatura generale di quello che sono i mistici nella società reale, ma qui non siamo nel mondo reale, siamo nel mondo di Samuel Stern. E vuoi che un semplice mistico, un semplice truffatore sia la causa di tutto? No, anche se devo dire che mi sarebbe piaciuto se il demone fosse stato contorno a questa storia. No, in realtà dietro al mistico c'è qualcosa. Io onestamente già da pagina 33 avevo intuito qualcosa. Io avevo intuito che un sempliciotto che non conoscesse appunto molto la propria fede, avesse scambiato delle parole dentro di sé, che sono quelle dei demoni, come ci insegna Samuel Stern, alle parole divine, no? E da lì avesse fatto partire la sua setta. Invece c'è dell'altro. C'è un demone, il demone è ben presente in questo numero, è ben cosciente, è formato totalmente, e diciamolo perché comunque i miei video sono sempre un po' spoiler, è totalmente padrone della persona di Irwin, che è il nome di questo mistico. È un avversario molto potente per Samuel Stern. Samuel Stern non ha mai visto nulla come questo demone. Questo demone non fa altro che attirare a sé i propri simili. È un demone cannibale in un certo senso. Se vogliamo dargli un termine umano, lui dice che in realtà lui non mangia i propri simili, non mangia gli altri demoni. Li assimila per diventare più forte. Mi viene in mente un majinbu, che è un demone, della saga di Dragon Ball, che per diventare più forte assorbe la parte buona di se stesso, ma assorbe anche i più forti tra i guerrieri Z. Questa storia che è stata scritta da Davide La Rosa e disegnata da Luigi Zagaria, tra l'altro ci tengo a nominare di nuovo la triade di copertinisti che sono Valerio Piccioni, Maurizio Di Vincenzo e Emiliano Tanzillo, che nomino poco, mi dispiace tanto, perché le copertine sono fantastiche. In questa storia, che raggiunge il suo apice, credo, all'inizio del terzo atto, vediamo proprio tutta la forza di questo demone che sostanzialmente tra le persone che riunisce attorno a sé, tra gli ammalati che riunisce attorno a sé, riesce a individuare gli ammalati che hanno in sé un demone, magari un demone piccolino, gli dà forza per crescere, gli mette all'ingrasso, come gli allevatori fanno con i maiali, poi estirpa il demone dalla persona e se lo magna. E, come si sa da Samuel Stern, ma anche da film come L'Esorcista, quando un demone formato si estrae totalmente dal corpo dell'ospite, l'ospite rischia di morire. E infatti qua molti ammalati guariscono magari dalla cecità, ma poi vanno in uno stato catatonico, perché questa estrazione li ha privati dell'energia vitale. Questo demone è anche la forza di farci vedere nel passato di Duncan, che probabilmente da giovane ha avuto a che fare con la guerra dell'ira, la guerra in Irlanda, dove ha perso un amico. E il demone cerca di fargli riaffiorare questi ricordi per creare una crepa in padre Duncan e creare quindi un demone, per poi appunto allevarlo e mangiarselo. Fortunatamente non ci riesce perché Samuel Stern, con un escamotage molto molto figo, riesce a battere un demone così forte, cioè gli fa rivoltare contro i demoni che aveva assorbito. Riassumendo molto, non è un passaggio chiarissimo all'interno di questa storia, storia che purtroppo si risolve un po' in fretta nel finale, si risolve solo nella parte appunto fantasy. Mi sarebbe piaciuto quasi un epilogo un po' più moralista nel senso alto del termine, cioè dove diceva che appunto nella realtà ci sono davvero questi mistici che fregano la gente. Mi sarebbe anche piaciuto vedere che, non so, il demone, il mistico senza il demone era comunque una persona orribile, però l'abbiamo già visto in Legione, una cosa del genere, quindi sarebbe stato ripetitivo. Tra l'altro c'è stato un riferimento a Legione, lo dice proprio padre Duncan. Questo demone, che tra l'altro ha un design fantastico, spero tanto che qualche pazzo fan di Sam Western ci possa fare un cosplay di un demone così, perché mentre tutti gli altri avevano una forma molto brutta, molto alien, questo demone comunque ha una forma antropomorfica, sembra un misto tra uno stregone, un ant e un super demone. Ha un look fichissimo. Questo demone è un agglomerato di demoni. Come già detto nel numero 3, che potete andarvi a riprendere, un agglomerato di demoni nella Bibbia, più precisamente nel Vangelo, quando Gesù Cristo è nel deserto, si chiama Legione. Un insieme di demoni è Legione, che è il nome proprio di un demone della Bibbia. Mentre nell'universo di Sam Lesterna, Legione è un luogo fisico, è l'inferno, non degli umani, ma è l'inferno dei demoni. Infatti padre Duncan dice a Sam Western, questo demone era un agglomerato di demoni, un po' come Legione, Sam Western dice, siamo stanchi, non ne parliamo adesso, quindi chissà, magari ne parleranno più avanti. Può darsi che appunto tornerà il discorso di Legione, magari proprio non come luogo fisico, ma come un demone che riesce ad assorbire tutti i demoni dell'inferno dei demoni per essere un villain finale, per portarci poi a una conclusione di una prima stagione, perché Sam Western secondo me è da prendere un po' come una serie televisiva. C'è molta carne al fuoco, vi ricordo che c'è anche l'agenzia che opera a livello mondiale per tenere, come fanno quelli degli X-Files, tenere a bada questi fenomeni occulti, questi fenomeni paranormali, vi ricordo anche che in un altro numero, se non sbaglio nel numero 4, abbiamo anche scoperto la presenza di quello che potrebbe essere un angelo, che però non per questo è buono dal punto di vista morale umano, e quindi c'è molta carne al fuoco, spero che si concluda magari con un demone come questo, un demone forte come questo, forte come una legione, e che l'angelo e l'agenzia magari si uniscano a Sam Western per questo scontro finale, perché no, sarebbe molto interessante. Vi ricordo sempre che alla fine del numero c'è il QR code, che io tutt'oggi non ho ancora visto, quindi lo vedrò a fine del video, vi metto sempre il link in descrizione se per caso non avete un lettore di QR. Vi ricordo inoltre che in quarta di copertina ci fanno sapere che per festeggiare l'anniversario di Sam Western a ottobre uscirà il primo speciale, il primo speciale conterrà la ristampa del numero 0 e tante altre cose, quindi probabilmente farò un video dedicato allo speciale di Sam Western, fatemi sapere se siete interessati, magari io lo faccio lo stesso, ma se siete interessati ci si può fare anche una live piuttosto che un video registrato, quindi fatemelo sapere. Noi ci vediamo tra qualche giorno al massimo con la recensione di DilanDoga407 dal titolo L'Entità e poi ci vediamo prossimamente nei miei altri video che posterò. Come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e arrivederci al prossimo video.